Il TDM e i medici di base chiamano raccolta i candidati al Consiglio regionale. Allora, di cosa c'è bisogno per migliorare l'offerta sanitaria fuori e dentro l'ospedale? Oggi sono state elaborate delle proposte in merito ad ogni singola criticità. Sono state effettuate proposte per quanto riguarda le carenze nell'ambito dell'oncologia, che è sicuramente uno dei reparti con maggiore criticità perché attualmente ha un solo dottore a tempo determinato. È stata proposta l'apertura di un centro radioterapico per consentire a tutte le persone che sono sottoposte a radioterapia di rimanere sul territorio ed effettuare le cure. Così come sono state avanzate delle proposte per debellare questo morbo delle liste d'attesa, tramite delle convenzioni con delle strutture o tramite dei medici specialistici ambulatoriali sul territorio. È stata evidenziata altresì l'importanza della medicina di base che deve fare proprio da trade union tra l'ospedale ed il territorio e cercare il più possibile di eseguire il paziente in un percorso di cura volto ad evitarne l'ospedializzazione. Ma durante il convegno è stato proprio messo in luce un'altra delle criticità del territorio e praticamente l'assenza delle strutture residenziali, semiresidenziali, insomma tutto ciò di cui al di fuori del territorio c'è bisogno. Così come è stato evidenziato anche la necessità di potenziare l'assistenza domiciliare integrata. Ecco, l'11 febbraio non sappiamo chi sarà eletto. Una cosa concreta che serve subito per la sanità, anche quella sul territorio, che insomma ci verrebbe da dire questa sconosciuta che insomma cade spesso nel dimenticatore. Allora, intanto la primissima priorità, l'abbiamo detto, affrontare un problema concreto che in questo momento abbiamo sul territorio ed è quello di garantire 25 posti letti all'interno del San Raffaele perché questo comporta anche la garanzia per l'occupazione e immediatamente creare le basi per evitare le lunghe liste d'attesa secondo anche diciamo le indicazioni che abbiamo dato perché non è possibile oggi, ad esempio per un ecocolodoppler, attendere oltre un anno, addirittura due anni, trovare addirittura le prenotazioni chiuse e lo abbiamo sempre detto per noi questa è una pratica di dubbia legittimità.